Musica Buonasera a voi telespettatori e buona domenica. Allora vediamo insieme i fatti principali della settimana. Un disastro annunciato. Ciò che potrebbe accadere se venisse realizzata la centrale idroelettrica sul Brenta, ridosso del Ponte Vecchio, il grande malato, rischia di avere conseguenze devastanti. Progetti, numeri e studi alla mano. La conferma arriva dalle ricerche fatte da un idrogeologo di fama internazionale che ha visionato e vagliato pro e contro relativi alla costruzione della centrale. Però in realtà non ce ne sono. I contro potrebbero avere risvolti drammatici legati alla posizione dell'impianto in prossimità non solo del ponte ma anche di antichi edifici. I pericoli riscontrati ci sono purtroppo e sono essenzialmente di due tipi. Abbiamo scoperto che lì c'è acqua, acqua di falda, bisogna portare via l'acqua oppure bisogna portare via il materiale pregno d'acqua. Questo significa un rischio di crollo delle fondazioni, degli edifici più vicini allo scavo profondo. Questo è il primo punto. Il secondo punto è che andando a scavare così tanto in profondità, a solo pochi metri, ripeto, da una fondazione esistente, significa che le ville vicine allo scavo risultano sospese per una parte del 20% circa nel vuoto. Quindi sono un rischio. E dallo studio del dottor Droli non solo le case rischiano il crollo se venisse realizzata la centrale idroelettrica in quel sito specifico. Questa strada, la via Pusterla, dove andrebbe poi a gravitare la centrale, è a rischio? Certamente, la via Pusterla è già spaccata a metà, si vede, basta percorrerla. E allora, cosa vogliamo? Farla lo stesso questa centrale? Vogliamo infischiarcene dei rischi cui gli esperti ci hanno messo davanti chiaramente senza mezzi termini? Non abbiamo già imparato la lezione da altri disastri annunciati con esito drammatico, vedi il Vaillant? Tutto è solo per assecondare un privato? No, qui è necessario che chi ha potere decisionale pensi, almeno per una volta, al bene collettivo, al bene comune, non a riempire la pancia dei pochi soliti noti, perché il geologo non ha dubbi, abbiamo sentito. Quella centrale non è da fare lì? In quel modo no, con quel progetto no. Venite destro! Un incontro così, proprio non se lo aspettavano, no, proprio non si sarebbero mai immaginati di trovarsi di fronte all'Uomo Ragno, a Catwoman, alla Lanterna Verde, a Capitana America, insomma, ai supereroi che animano il loro fumetto o il loro cartone preferito. Quei supereroi, capaci di affrontare tutto, ma proprio tutto, hanno voluto conoscere i bambini della città della speranza, i piccoli, veri eroi, che quotidianamente si trovano ad affrontare l'insidioso e perfido nemico della malattia, loro che vivono ogni giorno concentrando in un pugno la loro vita, il loro cuore, la loro anima, i loro sogni, la loro speranza nella guarigione. Mi dai un 5? Se va, ti presento l'Italia Superiore. E invece dei soliti dottori, delle solite infermiere, delle solite medicine, beh, tra i reparti sono arrivati i loro beniamini, che questa volta hanno testimoniato i poteri, quelli reali, racchiusi in queste creaturine, capaci, con un solo oh di stupore e di meraviglia, di toccare le corde anche delle anime più refrattari, a lasciarsi andare alle emozioni, loro, questi cuccioli di eroe, la loro battaglia contro il cattivo, la combattono in ogni istante della loro piccola vita, senza mai abbattersi. Già in realtà sono loro che dovrebbero essere presi d'esempio anche dagli adulti, perché, seppur nella difficoltà, riescono a credere nella bellezza della vita. Magari, resa ancora più bella, se un giorno a trovarli vanno proprio i loro supereroi preferiti, che magari si devono pure loro mettere la mascherina davanti alla bocca, ma sono sempre i supereroi preferiti. Come eroi restano questi bimbi curati in questo scrigno che è la città della speranza. E comunque, non bisognerebbe dirlo, ma anche chi scrive non è riuscito a trattenere le lacrime, assieme a un sorriso di speranza. Semplici cittadini, esperti, ma anche le parti in causa, ad iniziare dagli amministratori della vallata, hanno preso parte lo scorso fine settimana alla serata informativa organizzata dai volontari del Comitato Salviamo il Sentiero del Brenta. Un'occasione per mettere nero su bianco una volta per tutte è una questione che da mesi sta tenendo banco nel Bassanese. Abbiamo finalmente avuto l'opportunità di far parlare le persone con le competenze e mostrare il progetto alternativo, che è quello di sistemare la ciclabile, di farla passare sopra la vecchia magiera, nella parte più alta dell'argine, quindi mettendola in sicurezza e mettendo in sicurezza anche i ciclisti e i pedoni, perché verrebbero due percorsi separati. Due diversi percorsi che, se realizzati, non solo permetterebbero di salvaguardare il paesaggio, ma, sostiene il Comitato, garantirebbero anche un risparmio considerevole sui costi di realizzazione. Per questo la prossima mossa dei volontari è quella di superare l'impasso e arrivare direttamente ai vertici regionali. Naturalmente contatteremo la Regione, che fino ad adesso non ha risposto, non ha dato risposte, e faremo in modo invece di arrivare agli amministratori, ai consiglieri e agli assessori in Regione. Il prossimo appuntamento, intanto, è fissato per il 4 dicembre, quando i volontari del Comitato organizzeranno una camminata lungo l'anello del Brenta. Per portare le persone sul posto e far vedere che grande patrimonio naturalistico potremo perdere. Un patrimonio che rischia ora di essere deturpato dalla scelta di amministratori miopi di fronte alle richieste dei cittadini. Quando capiranno i sindaci che è ora di finirla con decisioni affrettate che rischiano di mettere in pericolo il futuro del nostro territorio? La sezione centrale di controllo della Corte dei Conti è intervenuta sullo stato di realizzazione della superstrada pedemontana. La relazione, è detto in una nota diffusa in giornata, conferma le criticità riscontrate lo scorso anno, quali l'estrema lentezza dell'iter dell'opera, i costi della struttura commissariale che si sovrappongono a quelli degli organi ordinariamente deputati, alle stesse funzioni. Le carenze progettuali, la portata di alcune clausole della Convenzione, le difficoltà inerenti all'esecuzione dell'opera, gli oneri e le penali e la loro rilevanza per i bilanci pubblici, le problematiche di ordine ambientale e il lievitare dei costi. Il ricorso al partenariato pubblico-privato, prosegue la magistratura contabile, non ha portato i vantaggi ritenuti suoi propri, rendendo precaria ed incerta la fattibilità dell'opera stessa. Solo a seguito dell'intervento della Corte, conclude la nota, è stata intrapresa da parte degli organi competenti una più approfondita attività di controllo sulla gestione della pedemontana. È necessario poi provvedere ad una rapida definizione delle procedure espropriative. Per la senatrice del PD, Laura Puppato, la pedemontana è il monumento al fallimento del governo Zaia. Rincara la dose il capogruppo del Movimento 5 Stelle in consiglio regionale Jacopo Verti. I costi sono triplicati, da 800 milioni di euro si parla di quasi 3 miliardi di euro e fino adesso hanno pagato solo i cittadini, solo il pubblico. Il privato non ha messo un euro, con il rischio concreto che a dicembre si fermino definitivamente i cantieri. È per questo che noi, è una cosa che stiamo portando avanti da tempo, prima ci davano degli allarmisti, invece purtroppo le carte ci danno ragione. Intanto il commissario Silvano Vernizzi ha annunciato che la complanare alla pedemontana Veneta sarà pronta entro la fine dell'anno, sarà percorribile da Amazon sino a Bassano. La tecnologia al servizio del chirurgo in sala operatoria. Il nuovo robot Da Vinci permette di intervenire nelle situazioni più complesse come l'intervento effettuato al San Bassiano dall'equip del primario Michele Antoniutti. È stata asportata una milza patologica. Diamo notizia di questa difficilissima operazione ora avendo la certezza della completa guarigione del paziente. Una situazione delicata superata brillantemente dai chirurghi bassanesi che si confermano tra i migliori in Italia. L'asportazione della milza è necessaria in alcune patologie come alcune patologie che portano una caduta delle piastrine, patologie maligne come possono essere i linfomi. E quindi la cosa delicata di questo organo è che è un organo molto vascularizzato e che ha delle afferenze vascolari, cioè dei vasi sanguini che arrivano, che sono molto delicati. Si tratta di un intervento mini-invasivo. Ti facilita l'intervento e si dà sicuramente una maggior sicurezza al paziente. I tempi di degenza post-operatoria sono molto simili a quelli della chirurgia laparoscopica tradizionale. L'arrivo dell'ultima generazione del robot da Vinci ha permesso di fare l'ennesimo salto di qualità all'ospedale cittadino. Oltre al comparto urologico, è usato anche per la chirurgia generale, lo torino, la ringoiatria e la chirurgia ginecologica. Dei passi in avanti fatti dall'azienda sanitaria locale, trasformata dalla recente riforma della sanità in Uls della Pede Montana con l'ospedale di Sant'Orso, parleremo mercoledì alle 13.15 durante un linea diretta con il direttore generale Giorgio Roberti. Ecco un'anticipazione. Risultati straordinari in termini di efficienza, perché si diminuisce le giornate di degenza, quindi anche i costi, si dà di efficacia perché si risolvono i problemi di salute e anche i benefici per il cittadino. Ipotesi di triplice alleanza E tra AIM e AVA, ma l'idea della fusione, facendo un gioco di parole molto vicino alla realtà, sta creando divisioni tra gli amministratori locali. In realtà, dichiara il presidente della conferenza dei sindaci, Riccardo Poletto, non c'è ancora nulla di certo. Ci stiamo guardando attorno per capire qual è il migliore futuro di questa società. Il migliore futuro sarà quello che garantirà maggiore efficienza e i migliori servizi per i cittadini. Quindi in quest'ottica si sta ragionando su possibili, ipotetiche possibili aggregazioni con altri soggetti. Tra queste possibilità ce n'è anche una con soggetti immediatamente vicini a noi, quindi senza andare in cerca di mega società quotate in borsa, ma di società legate al territorio come la nostra. Lunedì alle 15.30 nella sede dietro di Cittadella, discussione sul tema. Non c'è nessuna decisione su aggregazione sì e aggregazione no, c'è la possibilità di dare un indirizzo agli organi societari di perlustrare la situazione e di fare degli studi. Soltanto in seguito a questi, proprio quindi si faranno molti approfondimenti, si avrà un quadro generale abbastanza chiaro per poter dire conviene o non conviene. Ma che cosa comporterebbe per i cittadini? Per i cittadini ci potrebbero, però stiamo parlando di ipotesi, essere dei vantaggi. Ad esempio, la nostra società che è molto grossa, ha impianti di propria proprietà efficienti sull'umido, quindi smaltisce tutto il proprio umido e anche umido per altri territori, però ad esempio manca di possibilità di smaltire il secco. Riuscire a fare un'aggregazione che metta insieme le società che hanno tutti gli impianti necessari, vorrebbe dire fare economia di scala e poter fare tutta la filiera della raccolta, lo smaltimento di tutte le frazioni all'interno dello stesso soggetto. 159 casi ad oggi nel 2016 di donne vittime della violenza che si sono rivolte al pronto soccorso del San Bassiano e allo sportello Donna. I numeri più importanti riguardano la fascia d'età tra i 28 e i 51 anni. Le donne che decidono di denunciare il compagno sono sempre di più. Per combattere il fenomeno, l'intero territorio di competenza dell'Ulstrae si sta attivando con un protocollo. Entro la fine dell'anno firmeremo un protocollo tra la conferenza dei sindaci, l'Ulstra, le forze di polizia, i carabinieri, la procura è già stata coinvolta, la questura anche, le associazioni di questa città, Casa Sicme, le altre che lavorano insieme con noi. Dato emerso, episodi di violenza sulle donne in aumento in Vallata e sull'Altopiano di Asiago. Un po' per una difficoltà maggiore nel riconoscimento del fenomeno della violenza e anche per la difficoltà dettata da una vergogna sociale. Abbiamo molto lavorato al nostro interno proprio in quest'anno per evidenziare soprattutto quelli che possono essere i marker, detto in un termine sanitario, cioè gli indicatori, gli indicatori di sofferenza da un punto di vista non solo fisico, perché magari quelli li vedi subito se sei un medico, un infermiere, un sanitario, ma da un punto di vista psicologico. Ruolo fondamentale è il pronto soccorso, primo passo per aiutare una donna straziata nell'anima e nel fisico. Ci sono diverse realtà, arrivano persone che hanno stress psicologico, arrivano persone con percorse fisiche maggiormente. Purtroppo sono persone che effettivamente stanche di sopportare queste realtà, c'è qualcosa che li spinge e finalmente si spezza il filo, rivolgendosi al punto soccorso. E proprio al San Bassiano è stato attivato un percorso viola riservato alle vittime di violenza con un numero di telefono sempre attivo, sette giorni su sette, 24 ore su 24. Innanzitutto che deve essere una persona che ha passione per le relazioni umane, però deve premunirsi con il bagaglio, con lo zaino corretto e adeguato. Cosa ci deve essere in questo zaino? Curiosità, conoscenza delle tecnologie, inglese, non formale, inglese parlato, voglia di capire che cosa desigere alla persona che ha davanti, conoscere i gusti dei nostri interlocutori, non rimanere mai fermi su quello che pensavamo fosse giusto fino a ieri, continuare ad informarsi e alla fine fare un cocktail mettendoci del proprio. È possibile intraprendere questa professione arrivando invece da esperienze lavorative e professionali differenti? Assolutamente, io vedo un sacco di riviste anche molto tecniche, dove magari così come noi abbiamo le vocazioni ecclesiaschiche, cargive, di persone che lasciano professioni importanti, anche magari manager o persone con programmi impegnativi, desiderano magari fare qualcosa di proprio, mettere a frutto delle passioni, degli hobby, magari con dei business con numeri inferiori, però dove ci sia un apporto personale, una qualità della vita diversa. E a chi invece è spaventato da tutto l'apparato burocratico che implica aprire una nuova attività? Hanno ragione, hanno ragione perché ormai siamo arrivati all'eccesso, ma comunque ci sono formule nuove, ci sono formule a favore dei giovani, a favore delle imprese che partono, sempre affidarsi a delle associazioni competenti. Chi ha passione sarà felice di trasferire un po' della sua passione a un giovane, un po' della sua esperienza anche. E che arriva invece magari da un fallimento? E qui ci vorrebbe un po', come posso dire, della visione americana. Allora, un conto è un fallimento perché magari il contesto non è stato vincente, un conto è un fallimento perché si è voluto fallire, ma nel primo caso bisogna ritrovare la forza in se stessi, la forza di credere nelle proprie opportunità. Più cibo meno spreco. L'iniziativa contro gli sprechi alimentari ideata da Etra ha avuto fin dall'inizio un grande successo. Lo scopo è quello di diffondere un uso consapevole delle risorse e il recupero di prodotti ancora utilizzabili a favore di associazioni di volontariato. Ad oggi sono 11 che beneficiano in maniera continuativa delle donazioni dei supermercati aderenti al progetto, 8 in altrettanti comuni. I numeri sono importanti, abbiamo recuperato circa 100.000 chili di cibo che si sono trasformati in un pasto per i soggetti bisognosi. In questi giorni ha preso il via una nuova iniziativa. Grazie alla collaborazione con la cooperativa che gestisce il Centro Servizi Anziani Villa Imperiale di Galliera Veneta saranno recuperati e donati i pasti cotti non serviti dalla ristorazione interna della struttura. Noi riusciamo a recuperare pasti sia per le nostre strutture d'accoglienza, ma riusciamo anche a dare delle borse di spesa a delle persone che sono in necessità. Ci sono sempre più persone che hanno perso il lavoro, famiglie che fanno fatica ad arrivare a fine mese. C'è una cosa da ricordare, i primi spreconi siamo noi. Eh sì, in famiglia spesso non ci si accorge di quanto viene gettato via e che potrebbe essere riutilizzato. In Europa si stima che circa 100 milioni di tonnellate siano sprecate lungo l'intera filiera alimentare e più del 50% ci ha concentrato a livello domestico. Quindi è questo il dato importante. Nel corso dell'ultima seduta del Consiglio Comunale di Cittadella è stata presentata dalla Lega Nord e da alcune liste civiche una mozione che impegna la Giunta regionale a istituire il primariato presso la divisione di pediatria dell'ospedale della città Murata, come già presente presso il polo sanitario Campo San Pierese, un'altra eccellenza della sanità veneta. Per il sindaco Piero Bon la divisione di pediatria supporta in maniera fondamentale il punto nascite che ha registrato più di mille parti all'anno. Dall'amministrazione quindi chiedono di modificare le relative schede di dotazione ospedaliera nella prossima ridefinizione programmatica acquisendo l'apicalità e garantendo di conseguenza un futuro al reparto. Il presidente della Commissione Sanità a Palazzo Ferrofini Fabrizio Boron ha fatto sapere di tenere in grande considerazione questa proposta visto che la divisione pediatrica Cittadellese rappresenta un punto di riferimento per tutto il territorio dell'Alta Padovana. C'è anche un pezzettino del nostro territorio alle finali della 59esima edizione dello Zecchino d'Oro tradizionale Kermes Canora che vede protagonisti bambini da tutta Italia. Quest'anno dal 19 novembre tra i 15 cantanti è anche Giacomo Fantini, a 10 anni, Borso del Grappa, unico del Veneto ammesso in finale. Nelle prossime ore raggiungerà Bologna per prepararsi alla diretta che lo vedrà salire sul palco assieme a Glenda Vettori ed esibirsi in Raro come un diamante. Di cosa parla la canzone che ascolteremo tra qualche giorno in diretta? Parla del valore dell'amicizia. Infatti un amico vero è raro come un diamante. Tu hai un amico vero? Sì. Che si chiama? Ce ne ho tanti. Ce n'è uno in particolare? Adam. Cosa senti dentro quando canti? Sento emozione. Emozione che lo accompagna da sempre perché cantare è da sempre la passione del piccolo Giacomo che condivide anche con suo fratello e le sue due sorelle, una in particolare. Sentite perché? Chi avresti voluto portare con te allo Zecchino d'Oro? Mia sorella Caterina. Canta bene come te? Sì. E quando gli abbiamo chiesto cosa vuole fare da grande, Giacomo ha risposto senza esitazioni. Da grande vorrei fare il contadino perché mi piacciono gli animali. E allora ascoltiamo insieme la voce di Giacomo in attesa di sentire la canzone che porterà lo Zecchino. Prendi un'emozione e non mandarla via. Se ci vuoi giocare fai cambio con la mia, puoi spiegarla a chi non la sa e tutta la tua vita vedrai un'emozione sarà. E ti chiedo allora, di che colore è la tua emozione? Adesso. Gialla. Forza Giacomo! Ecco i risultati di analisi dell'acqua effettuata da Etra nel comune di Molvena. I dati che vi presentiamo rappresentano le medie sulle analisi effettuate e attestano la purezza microbiologica dell'acqua che ogni giorno sgorga dal vostro rubinetto. Da casa potete fare il confronto tra i dati riportati in queste tabelle e gli stessi che trovate nelle etichette delle acque in bottiglia. Ecco i dati più significativi per attestare la purezza e la salubrità dell'acqua. Il pH, ovvero l'indicatore di acidità, è di 7,42. Il residuo secco è pari a 461 mg per litro. Colore e odore sono assenti. Il calcio è pari a 121,8 mg per litro. I fluoruri hanno un valore di 0,18 mg per litro. Il potassio è inferiore a 5 mg per litro. Il sodio si attesta a 15,16 mg per litro. il magnesio sui 23,5 mg per litro. I dati sono stati forniti da EITRA che si occupa di monitorare l'acqua assieme alle ULSS in tutto il territorio di sua competenza. Grazie per essere stati con noi, arrivederci. Le previsioni per domani. Cielo in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso, salvo qualche temporanea parziale schiarita. Foschie e nubi basse nelle valli e nebbie sulla pianura centro-miridionale dalle ore più fredde. Precipitazioni Al mattino generalmente assenti, salvo una probabilità medio-bassa di qualche modesta pioggia sulla pianura orientale. Dal pomeriggio probabilità di precipitazioni in aumento su prealpi e pedemontana, specie verso sera. Limite della neve attorno ai 1900-2100 metri. Temperature senza variazioni di rilievo, salvo un probabile lieve aumento nei valori minimi. Grossele Elettrodomestici Euronics Point 500 metri di esposizione, qualità, convenienza e assistenza. Scegli Grossele, da più di 25 anni il cliente è sempre al primo posto. Grossele Elettrodomestici, in via Canova a Rosà, zona Cadolfin.